La SVP frena sulla raccolta firme per il doppio passaporto promossa dalla Suttiroler Freiheit. In merito alla questione del doppio passaporto italiano-austriaco per gli altoatesini, la SVP frena e mette in guardia dal fare passi affrettati. Il partito critica in questo contesto la raccolta di firme avviata dalla Suttiroler Freiheit, il partito della passionaria del Suttirolo, Efa Kluz. Il segretario della SVP Richard Tainer ricorda che il tema era stato discusso all'inizio dell'anno con i partner in Austria, che avevano assicurato di verificare la questione. La SVP, prosegue Tainer, ha anche chiesto un parere legale sulla questione del doppio passaporto. Secondo il segretario, in questo momento una raccolta di firme sarebbe controproducente. E intanto la frenata della SVP sulla questione del doppio passaporto italiano-austriaco per i suttirolesi fa danno alla causa. Ad affermarlo è proprio Suttiroler Freiheit, il partito di Efa Kluz, che ha avviato sul tema, come detto, una raccolta di firme. La questione non deve divenire l'occasione per discussioni partitiche e ci vuole, invece, dicono, un'analisi attenta che porti ad un consenso politico. Con l'atteggiamento mantenuto dal partito di raccolta, si afferma, ma l'effetto è che molti politici in Austria non siano informati della questione.